Ciao a tutte, in questo video voglio cercare di rispondere all'eterna domanda qual è il lucido migliore per il fimo? Dunque, io ne ho provate tante e ho anche sentito alcuni pareri di altre ragazze eccetera Dunque, alcune le prime volte hanno provato ad usare lo smalto trasparente Io stessa ho provato e il 99% degli smalti si può dire che alcuni prima, alcuni un po' dopo, fanno rovinare completamente la creazione e va buttata perché il fimo poi rimarrà appiccicoso Naturalmente parlo del fimo cotto Poi ho anche provato altre vernici, questa è la vernice vetrificante della... cos'è? Che marca è? Maimeri Mi avevano detto che andava bene ma non mi convince per niente, rimane un po' appiccicosa anche questa Avevo provato anche una vernice spray, quella rimaneva proprio attaccata ai vestiti La migliore resta pur sempre quella della fimo proprio perché è stata creata apposta per essere usata con le paste polimeriche, quindi va bene anche per il cernit, la premo, la sculpe eccetera Ora, molti diranno, eh ma io ho provato ad usare questa qui, che questa è quella lucida normale che una volta aveva il tappo rosso Molti ragazzi dicono, l'ho provata ad usare ma non mi convince, non lucida tanto eccetera E questo posso confermare che è vero perché io stessa la usavo questa ma non lucida più di tanto Questa con il tappo, il boccettino piccolino, sembra una cavolata perché è esattamente la stessa ma per me lucida veramente molto meglio Io credo che sia perché c'è già dentro il pennellino e quindi magari, non so, rimane sempre impregnato di vernice Comunque questa per me lucida veramente veramente meglio E non è solo questo barattolo che magari è difettato Ne ho provato, ne ho usati tanti di questi barattolini e lucida sicuramente meglio Vi faccio vedere un paio di cose che sono, cioè come vedete sono molto lucide Infatti molte ragazze spesso mi chiedono ma che lucido usi, sono lucidissime Io uso questo, esattamente questo E ci do almeno un paio di passate E con un paio di passate le creazioni restano veramente veramente molto lucide Quindi se dovete comprarne uno potete, vi consiglio assolutamente di comprare questo E si può comprare in moltissimi siti Ce l'hanno anche i negozi di hobbistica Però di solito fanno pagare dei prezzi pazzeschi Io questo non mi ricordo di preciso su quale sito l'ho comprato Ce l'hanno comunque su IP Witch, su Alchemian Credo che ce l'abbiano anche su Fimo Soft, il sito della Fimo Che ora si chiama Best Clay E nulla, io spero di essere stata utile facendovi vedere questo video Come parlo bene oggi, vabbè, non lasciamo perdere Spero di esservi stata utile e vi saluto Ciao ciao